Grazie a tutti. I temi dei consulenti, oltretutto anche la professionalità dei relatori sia in sala ma soprattutto, ripeto, quello che troviamo sia particolarmente importante è la competenza che abbiamo avuto modo di vedere dei consulenti finanziari. La vostra offerta di servizi e la consulenza indipendente come si possono integrare? Il servizio WeBank di Banco BPM consente ai clienti e quindi ai consulenti indipendenti di lavorare su una vastissima serie di prodotti e servizi finanziari, dal risparmio gestito fino alle obbligazioni quotate over the counter, naturalmente anche ETF e tutto quello che è strumenti azionari e obbligazionari. Quindi ha il cliente e il consulente finanziario indipendente a disposizione per le asset allocation dei clienti una vastissima gamma di prodotti e servizi.